ameria radio presenta la musica di ameria radio a cura di maria teresa ferrante buonasera e benvenuti alla musica di ameria radio dobbiamo sapere che le celebrazioni natalizie erano molto sentite nel medioevo infatti la maggior parte delle tradizioni ancora presenti nella nostra società occidentale sono nate proprio nei secoli medievali non c'è da stupirsi quindi che ce ne siano abbastanza ce ne siano molte di canzoni sul tema della natività di cristo il concetto di natale nasce intorno al quinto secolo dopo cristo e grazie a papa leone primo con l'intento di sostituire i riti pagani dei saturnalia che erano delle celebrazioni dedicate a saturno e al sonno della natura durante l'inverno e del sole invictus o sole invincibile che rinasce alla fine del solstizio d'inverno cioè il 25 dicembre periodo in cui le giornate cominciano ad allungarsi nell'emisfero settentrionale del pianeta confermando così la riaffermazione del sole nel mondo leone primo nei suoi sermoni natalizi affermava che il vero sole è cristo ecco perché il 25 dicembre diventa il giorno in cui si celebra la sua nascita che illumina il mondo dopo il lungo periodo di oscurità leone primo nel quinto secolo arricchisce l'immagine simbolica del presepe che fa parte ancora oggi della nostra società e con il bue e l'asino nella stalla che rappresenterebbero rispettivamente i pagani e il popolo ebraico successivamente nel settimo secolo la stalla presente nei vangeli di luca e di matteo venne sostituita dalla grotta gelida presente nel protovangelo di giacomo e a questa grotta viene associata una simbolica predizione della durezza della vita che gesù dovrà affrontare tutti questi elementi nel dodicesimo secolo verranno presi da san francesco per rappresentare al popolo la nascita di gesù attraverso il famosissimo presepe di greccio questa sera ascolteremo brani e che vanno dal dodicesimo al quindicesimo secolo e quasi tutti riguardano il tema della natività verranno eseguiti da due non mi resta che augurarvi buon ascolto grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. E a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti.